Signori, nella giornata odierna sono state annunciate grandissime novità da parte della Ghost Galaxy, che ha fatto partire una campagna di crowdfunding per il lancio del sesto set di Keyforge. E trovo questa pensata davvero geniale a livello di marketing, dato che in questo modo, dalla casa madre avranno modo di tracciare ogni dato riguardante il numero di sostenitori del gioco, ricevere aiuti economici per il rilancio e la riparazione dell'algoritmo, a facilitare la transazione del database del Master Vault e dei suoi account e, ultimo ma non per importanza, misurare la domanda per cucire su misura in rapporto a quest'ultima una produzione del prodotto. Se vorrete saperne di più, in descrizione vi lascerò tutti i link utili del caso, anche perché sono state annunciate tre nuove carte, quindi correte a vederle. E voi cosa ne pensate di questa manovra di mercato da parte della Galaxy? Come sempre fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi se vorrete conoscere altre notizie provenienti dal mondo dei TCG.